L'iniziativa nasce dall'idea di offrire sempre di più un miglior servizio agli utenti del Centro Sportivo San Filippo. Per questo il centro, in collaborazione con la cooperativa Radiotaxi Brixia, ha presentato ed ottenuto in Via Bazzoli la regolamentazione per la sosta riservata ai taxi, due posti che permetteranno agli utenti del San Filippo di usufruire di un servizio aggiuntivo. Inoltre sono stati svolti lavori anche per trasformare 8 posti auto in 15 parcheggi per motocicli, che arrivassi in automobile però non si troverà senza posteggio davanti al centro sportivo, infatti c'è un ampio parcheggio che può accogliere ogni esigenza dell'ordinaria attività settimanale. Nuovi servizi non solo in prima battuta per i fruttori del centro ma per tutto il territorio, dalla clinica di Sant'Anna al quartiere. L'integrazione all'interno di ciò che è la logistica del centro di almeno 15 posti per cicli e motocicli che prima erano non presenti nel centro e l'integrazione ancora più importante penso di un servizio tagliato. Cosa assolutamente unica in un centro sportivo nel Bresciano. Sono rimasti i posti per disabili a sottolineare l'importanza per il centro San Filippo anche di queste persone e la vicinanza dei taxisti permetterà poi anche un maggior controllo di questi posti. Sport e disabilità è uno dei punti cardine su cui la San Filippo in questi due anni ha lavorato e su cui abbiamo ancora molto da fare. Guai a toccarli, i primi quattro posti all'ingresso sono assolutamente per portatori di handicap, per disabili e la presenza costante comunque di personale all'ingresso del centro fa sì che ci possa essere un maggiore monitoraggio rispetto a questi posti e quindi che possono essere fruiti da chi davvero ne ha bisogno. Tutti gli altri potranno usufruire del parcheggio di fronte al centro? Tutti gli altri nostri utenti che arrivano da noi in automobile possono comunque continuare a usufruire in maniera invariata di tutti i parcheggi lungo via Bazzoli ed è grande parcheggio fra via Franzone e via Bazzoli stesso.